Tagliando la testa al toro, credo che voi abbiate l'esperienza necessaria anche per ricordarvi di quello che abbiamo fatto e che non abbiamo fatto. Bene, quindi, quello che è, qua c'è una grande volontà, da parte di tutti noi, quelli che hanno messo in piedi questa gamba, per adesso, dobbiamo andare via con due gambe, decidete voi, siamo completamente aperti a questo e personalmente, anche ho sentito le persone che adesso tengono in piedi quell'altra situazione, ma è di contrario, loro erano d'accordo, e qua lo dico, anche se voglia o non si vuole, è un accordo di aderire, di far parte di questo tipo di iniziativa, quindi mi meraviglio il fatto che adesso venga fuori io faccio finta di non aver sentito niente, perché rimango sempre l'idea che bisogna, come dicevo prima, accolpare queste situazioni, tutti voi dite qua che bisognava in qualche maniera riuscire a mettere assieme, mettiamo assieme, 50 anni che cerchiamo di mettere assieme, se vi ricordate il mio pallino era quello pesca, turismo, va bene, quindi non solo questi aspetti esterni con le altre realtà, ma mettere assieme prima la città, perché è importante, siamo sempre presentati divisi, in tutte le maniere, in tutti i contesti, qua mi sono sempre trovato a dove fa baruffa con tutto, dal sindaco Gazzari a tutto il resto, che ci trattavano in una maniera, perché questo? Perché la città si presentava divisa, allora avendo questa esperienza, io vi dico, non accetto di andare avanti in queste condizioni, bisogna assolutamente che prendiamo coscienza, a cominciare da alcune persone, che prendiamo coscienza che dobbiamo fare questi passi, li dobbiamo fare, quindi da parte nostra, Giuliano lo dice in maniera un po' troppo velata, da parte nostra c'è l'intenzione di accettare la buona volontà di tutti gli associati, quindi qui ci sono e qui non ci sono, senza andare a dire siamo i ducci o questo o l'altro o quell'altro, noi siamo disponibili ad arrivare a qualsiasi tipo di compromesso, perché vale il bene di questa città, sia chiaro. Adesso Gigi deve andare via. Grazie a tutti.